Quali sono 5 lavori strapagati in Italia che non richiedono una laurea? Al quinto posto il gestore di servizi funebri. Non sarà il lavoro più allegro del mondo, ma è ben retribuito e basta un diploma di scuola superiore. E la paga uscilla tra i 30.000 e i 70.000 euro all'anno. Al quarto posto installatore e riparatore di ascensori. Basta un diploma di scuola superiore, tuttavia è necessario un lungo apprendistato e non è un percorso facilissimo. Ma la paga può arrivare intorno ai 60.000 euro all'anno. Al terzo posto il digital marketing manager o social media manager. In Italia questa professione guadagna in media tra i 45.000 e i 65.000 euro all'anno. Al secondo posto il mio preferito, il programmatore freelancer. Questi in Italia guadagnano in media 45.000 euro all'anno. Tuttavia se vi costruite una clientela al di fuori dell'Italia, specialmente in America, UK o in Germania, questo numero può anche arrivare a stipendi a 6 cifre. E al primo posto il più difficile di tutti, l'imprenditore. Ossia aprire voi un'azienda che risolva un problema che le persone hanno. E lo stipendio in questo caso può superare i 100.000 euro. E in media è comunque più alto di 50.000 euro all'anno.